Ciao a tutti e benvenuti al canale Ecolinguist. Mi chiamo Andrea Lunardon, sono veneto, sono un traduttore e ho la passione della lingua e cultura veneta. Faccio parte di un gruppo che si chiama Venetrad, un gruppo di traduttori specializzati in lingua veneta e le varianti di questa lingua. Se voi qua sotto troverete il link per sapere di più. Mi parlo veneto, parlo una variante padovana del Veneto, che è la variante centrae e ancora siamo qua per fare un piccolo giughetto. Vedremo se i nostri amici del Portogallo, della Moldavia e del Quebec in Canada, sono buoni di capire cinque parole diverse in Veneto. Andiamo a conoscere i nostri amici, José. Ciao a tutti, sono José, di Porto, in Portugal. È un piacere essere qui con voi, sono un grande fan di Ecolinguist e, sì, sono un engenheiro, ma ho una grande paione per lingua. Nel momento vivo in Londra, alcuni anni, e passo la parola al Romano. Salute a tutti, mi chiamo Roman, sono in Germania, ma ho una Repubblica di Moldova. E sono un amico amico di lingue strane, quindi sono molto felice di partecipare al progetto di Ecolinguist. Da, c'è il trasferimento lui, Antoine. Salute a tutti. Ciao a tutti. Allora, io vengo di Montréal, del Quebec, del Canada. E sono un grande passionato di lingue. E sono anche professore di lingue. E mia lingua maternale, è il francese tedesco. Ecco, e ancora voi altri dovrei indovinare cinque diverse parole, e mi vedo scriverò queste parole, e voi altri dovrei scrivere su un tocco di carta, secondo voi altri quale è questa parole da indovinare. E, Gavio capito? Siamo pronti? Sì. Buon dai. E ora partimo. Prima parola. Parliamo di un posto. È un posto che è pieno di acqua, che non è un mare, non è un lago, ma è comunque un posto, un paesaggio dove c'è tanta acqua, che c'è vicino al mare. Gavio, già qualche idea? Gavio, già qualche idea? Gavio, già qualche idea? Nasce nella terra e acaba nel mare? O solo perto del mare? No, non nasce dalla terra. Diziamo che nasce dal mare. Nasce dal mare. Qualche idea? Romain? Da, hai spus che è un luogo pieno di acqua e è abbastanza di mare, ma è un luogo artificiale o naturale? No, naturale. Naturale. Est-ce che c'è un luogo con il sable? Sabia, sì, è sabia. E l'acqua in questo posto è poco profonda. Non è acqua alta. È acqua bassa, acqua poco profonda. Ma è che c'è questa è tenda d'eau, è che questa parte d'eau fa parte della mare? È un luogo con il luogo con il luogo con il luogo? È un luogo con il luogo con il luogo con il luogo. È molto importante per la capitale del Veneto. Ah ok, penso che io comprendo. C'è qualcosa che l'on trova in Venise? Si. Con dei bateaux, le gondole. Si, le gondole si muove proprio dentro a questa roba qua. Ok, penso che ho capito. Si sono pronti, possiamo provare. Gavi ha scritto. 3, 2, 1, mostriamo. Vediamo. José? Canal? No. Romain? Io ho scritto golf. Sau plajà. Golf perché è l'inizio dove c'è acqua, ma non è conectato con mare. È inizio del mare. In un senso. E la plajà? Quasi. Quasi. Io pensavo che c'era la plage al principio. Ma poi, con la mia questione con le gondole a Venise, ho pensato, ah non, non è la plage. No, no. C'è laguna o è aguna. C'è, in inglese, c'è lagun. C'è una parte del mare che è tutta intorno alla città di Venezia. Acqua bassa e acqua del mare. E questo termine, laguna, l'inglese lo gaccia dal Veneto. E la parola originale è Veneto, laguna. E in inglese, c'è dopara il termine Veneto. Ecco. Come se dice nelle vostre lingue? In piuttese è laguna. Romain? Laguna. In francese, c'è lagun. Attends, C'è lo stesso in tutte le lingue, insomma. Buon dai. Podiamo passare alla seconda parola. E ora, parliamo di una verdura. Questa roba è una verdura. Non è un frutto, è una roba che si mangia. Si mangia. E c'è verde. Non c'è un frutto. E il legume? No, c'è una verdura verde. E c'è un fiore. Un fiore. Romain, sì, c'è un legume. In francese, legume, c'è verdura. Legume. C'è la même chose in roumain. Ah no, par noi altri, legume c'è fasoï, fasoï, bisi. Oui, mais en france, legume c'è verdura. Ah, vabbè, vabbè. Oui, c'è tutte le... No, ma c'è una verdura nello specifico, la parola. C'è una verdura verde che si mangia solo le ponte. non si mangia tutto. Si mangia solo le ponte, la parola di questo fiore. di solito si ciuccia i petali di questo fiore. Si ciuccia. Si mangia insieme con ovi o olio d'oliva. Si è una verdura che arriva dagli arabi. Si è una verdura che si fa lessa. Si fa lessa. Si prepara. Si cousina tanto. Gavi qualche idea? Romain? Am inteles ce ai descris, dar... ...nu... ...nu stiu anume la ce planta te referi. Puòde fi orice. Io non cunosc foarte molt botanica. Ori culinaria. Non ho idea. Va bene dai. E allora, Antoine? Est-ce que ça commence avec un S? No. No. In inglese, no. E... No. In veneto, no. In francese, non so. Ok. No, ma in inglese, non. Alors, je pense que c'est pas... C'est pas la chose que je pense. No. Est-ce que... D'un pays? Si, si, dagli arabi. Ok. Alors, ça... Il n'y a pas de... De plantes... Cette plante ne pousse pas en Italie? Si, si. Cresce anche in Italia, si. Ok. Si, si. Puoi crescere anche in Italia. Se fa ne serre. Se puoi cultivare ne serre. In maniera artificiale. Si, si, si. Si, si. Si, si. Si, a volte. Ma si mangia da soio. Eh... In inglese, la parola scommissia con la lettera A. Ah, come sono total perduto. Ah, come sono total perduto. José, qualche idea? Eu... Eu pensei que podia ser branco. Eh... Por exemplo, existe un legume que cresce come una flor. E... 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 è branco, quando si cozinha a molto tempo. Eh... Nem toda la gente gosta de comer, mas... Mas... é... Mas è un legume che se come... Costuma-se comer... Ah... Sozini. A acompanhar a carne o alguna cosa. Eh... Può essere... Non... 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 So il portugueso, però secondo me... Te sì. Una buona strada. Ok. Alla c'est blan. La culà... C'est blan. No... Non... è bianco però simile se si esceglie su meia un po' è una verdura che è verde mesmo corverde fica verde quando se cozinha se verga se verga verde escuro va bene dai savi che sei una verdura prove a scrivere zona verdura a caso proviamo vai jose scrivi ok ma so tentare mai una vez è è una verdura che muitos muitas crianças non gostano di come per esempio molti dei più piccoli non gostano di come e sono forzati non che piace non che piace a ipotei non che piace a verdura verde no in general poi stai vai vai 3, 2, 1 vai jose broccolus? un broccolo? no? romà? prima mia intenție a fost rosmarin pentru că ai descris o verdeață foarte populară foarte folosită în culinărie dar n-am fost sigur după ce ai spus că are origine arabă și apoi că se începe în anglază cu A nu știu buon, non știu mai verdura, però e Antoine? D5, mai c'est vraiment j'ai mis n'importe quel mot j'ai deviné completamente D5 c'est beans beans, mai șpans pa ciocco o arti ciocco ho scelto questa parola perché a che somiglia tanto all'inglese arti cioc invece tante altre lingue tante altre lingue latine do para un termine diverso că se molto simile esatto tipo quel che ha scritto José al-că-ci-o-fră 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 e român? un limba română din câu te conosc angina ah, molto differente tante altre lingue lingue românze do para un termine simile a in italian carciofo al-că-ci-o-fa insomma termini simili a questo ma noi altri veneti do paremme un termine molto differente che se simile a lingue nordiche come l'inglese o il tedesco e podemos spostarsi alla terza parola Allora parlimo de un oggetto este un strumento che serve para maniare este un strumento fatto de metal può essere ferro de solito se è fatto in metal però può essere fatto anche de plastica o de legno este strumento este presente dentro tutte le nostre case tutti noi altri casa Romain cosa dici tu? ho capito ho capito tu José? ho capito si pronto? e allora scrive vai tre do uno vai José garf furculiță furcet io ho mai scris cuvântul furcă deoarece furcoliță è diminutivul dar servește ca ustensila pentru mâncare și furcă este arma care este ustensila o instrumentul agricol esatto giusto giusto esatto in Veneto se piron el piron in inglese fork bravi se dici piron piron un termine tanto differente da forchetta furcette este fork este molto differente piron però il Veneto usa piron perché lo ciappa dal greco in lingua greca se dici piruni noi altri veneti per tanti secoli siamo stati nel mare adriatico insieme coi greci greci e qui greci greci che găi mă tante paroie insomma în comune ecco bon podemos passare alla quarta paroia parliamo de una persona c'è una persona o persoană feminină și este un membro a familie într-un mod sì nu am înțeles partea cu nu este soră dar nici mamă nici bunică poți repeta încă o dată? sì te ne manca te ne manca una de parente stretta femina te ne manca una se vuoi farme qualche domanda est-ce est-ce cette est-ce cette person est-ce generalement plus jeune? no puoi puoi avere diverse generalmente se è più veccia rispetto a persona che la descrive si 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 se pi veccia si pi vie che chi pi vie che chi as e piu piu jovene de a nonna mas e piu veccia de na sore ad esempio o de un frate o come a mamă e papă e il me dupai o il me de man sì però femeinie però femeinie femeinie j'ai compris vai prova tre due uno eu am scris stră bunică ce vine după bunică cum ai spus mai invecheată dar asta un pic m-a făcut confus și după aceea am scris com nada va be va be ok e antoan la tante c'est la săr săr de la măr bravi bravi antoan e josé gainde vina in venetos e amia mi amia în inglese se dice hont in veneto tra tutte le lingue romanze la version veneta z quă più simile al latino originario, perché in latino si dice amita e noi altri che avevamo cavà solo la correccia, ma tu sei solo amane eh sì, Romain ti chiede sbagliare perché vogliamo parlare di più vecchio, più giovane, perché ho detto più vecchio di una sorella ma più giovane di una nonna andiamo avanti la quinta e ultima parola allora questa quinta parola c'è una roba che si mangia c'è un frutto credo che sia un frutto c'è una roba che si mangia c'è un frutto secco c'è di legno anche questo qua viene dai paesi arabi c'è un frutto piccolo non c'è grande c'è piccolo di solito si mangia d'inverno perché siccome si è un frutto secco si può conservare tanto tempo quindi d'inverno si mangia questo frutto qua è un frutto che bisogna rompere per mangiare quello che ti trovi dentro quando è fatto di due parti due parti simili diciamo ti rompi e ti mangi quello che c'è dentro Gavi qualche idea Antoine non c'è duro anche dentro duro duro non c'è morbido generalmente precisa di un strumento per abrire un utensilio per abrire o è no qualcuno adopara questo strumento però diciamo che questo strumento per versare ti adopari per altri frutti sempre frutta secca però più difficili da versare più duri invece questo qua ti basta e man basta doparare e man le man non serve strumenti un trebare acest fructi este di obicei decolore oranjo oranjo rosso no è color color legno zio zio arancio color legno legno ah ho capito tengo una forma di oito come ho capito bravo bella domanda josé si che ha forma di un otto la forma di otto si la forma di quale forma di otto 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 è la forma del numero otto ah ok quando è di soccato in due proprio quella si o a forma di infinito si 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 quando è in due dal che mi entregue chi è o ming si 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 questa parte mi ha veramente buscule con la forma del chifre vite ok si come frutos secos de tantos tem que ser mole non pode ser daquilo mais duro che precisa de un instrumento non pode ser un instrumento può essere che te serva un instrumento ma normalmente non te serve instrumento e no normalmente no però è duro a casca por fora tem a forma de un 8 certo? si 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 a forma de 8 sicura sicuro a forma de 8 stas acompanhar Antoine 6 non je pense que je connais pas assez sur peut-être que c'est la même chose que j'ai dans la tête mais peut-être que j'ai pas assez regardé j'ai pas assez vu cette forme parce que j'imagine pas la forme en 8 j'ai deux mots j'ai deux options j'almente faç manteiga du eu cred que am encelelès dar am scris un en general non știu dacă te refiri la un aliment concret un sortiment concret a scris fructul en general non 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 c'est così en general c'est concret un tipo de frutto bon dai siamo pronti proviamo 3 2 1 vai amendoim nuca arachid guarda quante alternative che garantit one una dopo st'altra avec trois tentatives baglillo un baglillo do baglilli in inglese in inglese se peanut e go scelto sta parola perché è una delle parole che suona più strane in veneto baglillo tanto strano in veneto suona forte exotic baglillo viene direttamente dall'arabo perché in arabo si dice qualcosa tipo albarkic albaic in veneto c'è direttamente la parola araba e diventa albaio baglio buon ragazzi siamo arrivati alla fine we can speak english now i think bravo yeah you did a great job guys thank you all i think that you could understand the venetian quite well so what do you guys think about the venetian language was difficult easy josa i think it was easy to follow apart from some words but i think the words at the beginning threw me off because they were quite difficult to guess accurately the lagoon is like something that maybe you know if you don't know too much about geography or this kind of thing Antoine was mentioning the gondolas so I went straight for canal and didn't think about lagoon at all but in general I could follow along and understand but yeah some of the words were challenging to guess Roman what do you think for me it was okay I understood Venetian almost as good as Italian except for the artichoke part it threw me off completely and the third word with the ant yeah I wasn't paying much attention but in general it was a beautiful language and I enjoyed it and I understood it yeah and Antoine what do you think yeah actually I knew because I speak Italian as well I knew it was close to Italian but I didn't expect it would be this close I think the thing that was a bit curious was certain words you know it's very close to Italian in general but some words are just very random like the one from Greek or the one from Arabic and artichoke I would never guess I think understanding the descriptions or explanations in Venetian was easier than actually if I had to guess how you would say it in Venetian I would never have guessed certain words so that was interesting and also I was surprised that I was also able to understand Roman not completely but actually I could follow quite a few things he was saying in Romanian and I was kind of shocked that I was able to understand him better than I thought I would Andrea do you have anything to add what was your impression about this experiment well it was awesome I had a lot of fun doing this and which is the most important thing so thank you guys for this time together